Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita. Al mio segnale, scatenate l'inferno. A tre settimane da oggi, io metterò il mio racconto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà. Serrate i randini, seguitemi! E vi ritroverete soli. A cavalcare su venti praterie col sole sulla faccia. Non preoccupatevi troppo, perché sarete dei campi elisi. E sarete già morti! Fratelli! Al mio segnale, scatenate l'inferno. Ciò che facciamo in vita, riechia nell'eternità. Mi chiamo Massimo Detimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, serpo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. Madre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta. Questa vita o di un'altra, questa vita o di un'altra. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Madre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta. Ma io non sono stato il migliore perché uccidevo velocemente. Ero il migliore perché la folla mi amava. Conquista la folla, e conquisterai la libertà. Conquisterò la folla, e darò qualcosa che non ho mai visto prima. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Fratelli! Ero il figlio 먹을, come crazy! Grazie a tutti.